Luis Rubiales ormai è all'angolo. La commissione disciplinare della FIFA ha deciso di sospendere il presidente della Federcalcio spagnola con un provvedimento che al momento avrà una durata di 90 giorni. Tutto ruota attorno al caso del bacio rubato di Rubiales alla calciatrice spagnola Jennifer Hermoso, che ha chiaramente espresso come il bacio non fosse consenziente. Nei tre mesi di sospensione Rubiales non potrà svolgere alcuna attività legata al calcio, né a livello spagnolo né internazionale, in attesa del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti giovedì scorso. Per Rubiales, 46 anni, anche vicepresidente dell'UEFA, si tratta dell'anticamera del licenziamento e della fine della carriera dirigenziale. Contro di lui e il suo atteggiamento come rifiuto di dare le dimissioni, in Spagna altrove si è elevato un coro di indignazione da parte del mondo del calcio e della stessa società civile. Intanto, nel pomeriggio di sabato, 11 membri dello staff tecnico della Nazionale Femminile, tranne il CT Jorge Vilda, si sono dimessi.